Ragazzi buonasera, eccoci qua, anche noi siamo a Pettegola, come quasi tutto il resto di Roma. Mi trovo con la fantastica Arianna, cugina e futura moglie di mio cugino Stefano, e me lo spero o credo, è arrivata anche la mia sorellina, la mia sorellina, qua dobbiamo specializzare una cosa, Valerio e Laura si sposano, a breve, mia sorellina me la sposo, non è una sorellina mozza, però me la sposo, speriamo sempre se non ci ripensa all'ultimo momento, che carini che sono, a piaggio di nozze, di nozze, delle nozze, vabbè capite, ragazzi c'è un certo orario, quindi dovete capire la situazione, comunque provvederemo il prima possibile a farvi sapere, non come libri e come quelle cose che mettono in giro, comunque faremo sapere, l'ora delle nozze, vabbè, vabbè, siamo pronti, Pettegola!